Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, come vedete sera sono qui in compagnia di Claudio Claudio Carfora, è il country manager di Zero Italia e per il raduno del 5 giugno ci presta questa bellissima SRF grazie Claudio dell'opportunità Guarda mi fa molto piacere perché insomma tu sei uno dedito veramente all'elettrico in generale quindi questo è apprezzabile e noi assolutamente come Zero valorizziamo questo tipo di opportunità per gli altri perché noi dobbiamo far cultura, noi non siamo qui a vendere le moto, siamo in mezzo a una strada trafficata quindi scusate il rumore, noi vogliamo vendere un'esperienza e comunque è uno stile di vita più che altro non è una moto, noi vendiamo uno stile di vita e quindi sicuramente con i tuoi video, i tuoi giri che farai racconterai perfettamente l'emozione che si può avere guidando una Zero Motorcycle e poi l'SRS è anche un bellissimo modello di un design molto particolare che quindi apprezzerete con i suoi video e foto i nostri spettatori l'hanno già apprezzata nell'evento di Salso Maggiore che mi hanno visto fare qualche numero un po' alzardato, lo possiamo dire un po' così e quindi che sono immerse sicuramente le grandi caratteristiche tecniche della moto e sarà confermato per questo evento qui poi Michele ti faccio venire qua, ti faccio comparire nel video perché Michele che conoscete già ci aiuterà a dare un'opinione sulla moto gliela farò provare, gliela faremo provare è un motociclista di lunga data e quindi ci darà il suo feedback sì, la proverò al passo della Raticosa faremo il nostro solito giro medicina, passo della Raticosa e ritorno e vediamo un po' come si comporterà quindi riprendiamo il video domani all'evento del 5 giugno e vediamo il video grazie Grazie a tutti 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 Eccoci qui Zero moto elettrica Palazzo di Varignana Grande Cristian Ciao Che mi trasporta sempre in moto lui Ecco il babbo Ecco C'erano troppe scale da fare Grazie a tutti Che attira tantissima curiosità Ed è l'unica Vai 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 E' l'unica E' l'unica E' l'unica Pista dei box Siamo qui Siamo qui Mosso Zero Giusto? Zero Motorcycle Ringraziamo anche Claudio Carfora Che è il country manager di Zero Motorcycle Italia Che ci ha dato questa opportunità qui di guidarla a zero per questo fantastico raduno Top Poi su una pista così importante C'è tanta roba C'è tanta roba Attenzione Allora passiamo la piccola Ami Passiamo Perché la mobilità elettrica è anche piccola Ed eccoci Ciao Siamo davanti in pool In pool position Dai camminare sta Vai Una posta Grazie Cristian Siamo davanti in pool Siamo davanti in pool Chiamo Siamo davanti in pool Quindi te chiamo In pool Vai No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!